Buongiorno amiciotti, siamo in Chimena Natalizio, come si vede anche dal tipico cappello natalizio siciliano, anche dal sottofondo con Natalizio. Allora ho pensato bene di scrivere una letterina con Babbo Natale, per chiederti di portare dei regali belli, ma soprattutto utili, ai miei amici di Toclane. Allora ho scritto, caro Babbo Natale, a Luga Fausto vorrei regalargli la procura di Adebayor, così lo potrà sferire a suo piacimento dove gli pare senza che nessuno gli rompa le palle. A Gianfranco Pesci, invece, vorrei portarsi un bel cartonato di Hermes da mettere in salotto, perché lo vedo proprio che, quando si parla di Hermes, mi si lungono gli occhi, è in estesi. D'altronde lo capisco, perché Hermes è un grande picciolo. A Max Toclane, invece, vorrei regalare un corso accelerato di tecnologia, perché ogni volta o si bloccano gli sms, o gli cade la linea delle chiamate, oppure gli si blocca il caricamento dei siti. Nell'alito potremmo regalargli un kit completo per sconfiggere il malocchio. A Franco Lanetti, invece, vorrei portarsi un bel libro, le migliori scuse per ogni occasione, autore, il suo preferito, Movizio Sarri, edito dell'Aventris. A Nino Ori, vorrei portarsi un bel Gigi Simoni sul gelato, da conservare in freezer con una temperatura costante di meno di 98 gradi e da consumarsi obbligatoriamente entro la data per vista di Juve Inter. A Postman, lui, vorrei portarsi il prima possibile un armadio nuovo, possibilmente rinforzato in lamiera d'acciaio, in quanto, come saprai, dopo ogni gol segnato dalla Juve, si esibisce nel suo rito del calcio volante all'armadio. E tutti sono preoccupato, visto che quest'anno di gol mi stiamo segnando parecchi. E poi, il dolce sinfundo, il direttore, Marcello. Allora, vorrei portarsi in regalo un punchy boy, da utilizzare dopo ogni indiretta con i colleghi di tocco calcio, con attaccata la faccia di San Drey o, in alternativa, si può attaccare anche quella di Biasini o Calcaterra. Buona data a tutti, soprattutto buon 2018, a noi e alla nostra riunione. Ciao!